Per alcuni si tratta di una svista, per noi è un errore amministrativo, l'ennesimo, e ci sono precise responsabilità. Non perdone il circolo commissariato Repidiri sul Monache e Bacchetta, l'amministrazione comunale per il finanziamento perso sulla riqualificazione della villa comunale. Serviva un progetto esecutivo, invece il Comune ha presentato un progetto definitivo, un vizio di forma che ha spinto la Regione a revocare finanziamento di 100.000 euro e si accende la polemica. I bilanci dei comuni sono scarsi e per questo reperire fondi dalla Regione e dal Governo e dall'Europa partecipando ai banti deve essere l'attività più importante per gli amministratori che devono essere formati costantemente. Ciò posto nulla toglie alla culpa invigilando della classe politica, rileva il PD secondo il quale ancora una volta ci spiace constatare di trovarci di fronte a un'amministrazione che veleggia nell'ignoto, che non sa e non vigila sull'operato dei dirigenti e tecnici preposti. I primi responsabili, li pseudo-amministratori, che continuano a rimanere sulle loro poltrone dimostrando di non avere un minimo di dignità e di responsabilità per l'istituzione, che come rappresentanti dovrebbero onorare con il loro lavoro onestà e risultati, responsabilità che dovrebbe portarli alle dimissioni per i continui fallimenti a danno della comunità. Poi il PD passa dalla protesta alla proposta, chiedendo l'aggiunta comunale di utilizzare i 75.000 euro della Carispa che 25.000 euro stanziali dal Comune per una manutenzione straordinaria che si limiti al patrimonio arborio ad opera di una ditta altamente qualificata, perché l'investimento nella manutenzione dell'area verde è fondamentale per l'immagine della città e per la tutela della salute dei cittadini. Grazie.